Musica Ecco le previsioni meteo per a venerdì 20 luglio, giornata alle 12 del 19. L'anticiclone della Zorra sarà ancora presente nella giornata di domani sulla nostra zona, garantendo tempo stabile. Dalla serata di venerdì sistemi perturbati valicheranno le Alpi, portando per sabato un peggioramento con piogge e un importante calo termico. Per venerdì cielo sereno poco nuvoloso, con locali addensamenti dalla serata sulle aree alpine e associati locali più vaschi. Vediamo le temperature, la minima 17 e la massima 31. Grazie dell'attenzione, a domani. Grazie Grazie